BMW di Chiara Guerra la Ducati Multistrada e lo fa con questa Adventure Sport Tourer, in pratica una crossover con numeri quasi da sportiva pura. 160 CV per 228 kg in ordine di marcia, ottenuti sfruttando la base tecnica della Naked S1000R e aggiungendo sapientemente comfort e una leggera vocazione turistica. Ereditate dal quattro cilindri della nuda BMW, anche le sofisticate dotazioni elettroniche che comprendono già di serie due modalità di guida, Rain Road e due diverse tarature del controllo di stabilità ASC, ABS e anti-wheeling. Con simili potenze e un baricentro non proprio basso, questa BMW S1000XR non è una moto verneofiti, anche se l'ampio manubrio e la comoda posizione in sella inducono subito una forte sensazione di confidenza. Quindi cautela almeno all'inizio e poi gustatevi la grande potenza e soprattutto l'eccellente erogazione del propulsore bavarese. Si viaggia davvero comodi, le vibrazioni sono limitate e la protezione aerodinamica tutto sommato accettabile per una crossover votata al turismo veloce. Prezzi da poco più di 16 mila euro, ma i tanti accessori disponibili sono una tentazione a cui sarà davvero difficile resistere.